Ieri ho cominciato la fiera della moto a Milano andando a visitare peraltro le eccellenze emiliane romagnole che portano il vostro nome nel mondo, poi sono stato al November Pork per la gioia di qualche fondamentalista islamico a Polesine Parmese, però a me piace il salame, c'è poco da fare. Poi in serata si è stati in centro a Reggio ed è stato spettacolare perché c'era una marea di gente per quello che doveva essere un aperitivo e poi c'erano tre lontani, lontani, lontani che cantavano Bandiera Rossa e non li avevano avvisati che ieri era l'anniversario della caduta del muro di Berlino quindi erano rimasti in tre, come quel film, non mi ricordo se è Stalin che si sveglia dopo ecco, erano a Reggio ieri, però alcuni erano stamattina a Carpi, sono sempre quelli probabilmente no, comunque grazie, vi chiedo di fare per l'Emilia Romagna quello che la vostra splendida comunità e Alan Fabri stanno facendo a Ferrara. Cambiare, aprire porte e finestre, mantenere le promesse, guardare avanti. sapete la differenza fra sindaci e sindaci, il sindaco di Ferrara e il sindaco di Reggio Emilia i giornalisti mi chiedevano a Reggio Emilia un commento alla scelta del sindaco del PD di Reggio di scrivere all'anagrafe tutti i richiedenti asilo, tutti, se nessuno escluso, prima che sia arrivata la risposta sì o no, ma quindi andando anche contro la lingua italiana perché il richiedente fa una domanda a cui poi arriverà una risposta e stando ai dati ufficiali nel 74% dei casi la risposta è no non hai diritto a nulla, non scappi dalla guerra, anzi la guerra tendenzialmente ce la porti in casa venendo a far casino, a spacciare, a Ferrara, a Reggio, a Modena e quindi non abbiamo bisogno di te richiedente noi rispondenti ti rispediamo a casa. Sindaco di Reggio pur di fare il fenomeno li scrive tutti all'anagrafe così poi possono presentare domanda, pretendere diritti, dimenticandosi dei doveri e invece io in due minuti ho capito cosa deve fare un sindaco, occuparsi di vita reale, di sicurezza, di tasse, di merito valorizzando in comune come noi faremo in regione i dipendenti bravi e i dirigenti bravi ma mandando a casa quelli che non hanno voglia di fare il loro lavoro o lavorano solo in base alla tessera di partito o di sindacato quindi al 26 gennaio e chiudo con questa riflessione mancano 77 giorni 77 vi chiedo di fare come facevamo noi quando abbiamo fatto il servizio militare 77 giorni all'alba 70 giorni a quelle che non sarà una domenica di elezioni io darò l'anima con Alan, con Lucia e con tutti gli emiliani e romagnoli perché il 26 gennaio 2020 non sia un'elezione del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna ma rimanga scritto sui libri di storia come la festa della libertà dell'Emilia e della Romagna come una giornata di festa, di partecipazione, di gioia, di futuro, di positività stamattina a Carpi eravamo poi alla vecchia maniera, alla leghista siamo arrivati lì, c'era una marea di gente abbiamo fatto un comizio con un megafono mezzo scarico salendo in piedi su un tavolino fregato al bar che c'era lì fuori ma c'era una marea di gente e poi dall'altra parte c'era la proposta politica della sinistra vaffanculo cioè un programma che ha richiesto probabilmente mesi e mesi di elaborazione filosofica, culturale e sono belli perché poi non sono neanche furbi sono lì a cantare bella ciao a parlare di operai e di fabbriche con Rolex e la Louis Vuitton ma almeno lascialo a casa Rolex ma almeno fai finta di avere i calli sulle mani e quindi va bene così dai quindi vi chiedo di vivere questi 77 giorni scaldando teste ma soprattutto cuore dei ferraresi, degli emiliani e dei romagnoli perché sarà un voto degli emiliani per gli emiliani sarà un voto noi gireremo questa terra proponendo le nostre ricette per ridurre le liste d'attesa negli ospedali per pagare in tempi certi gli agricoltori che in alcuni casi aspettano da anni il rimborso della regione Rimiglia-Romagna alla faccia dell'efficienza per rimettere al centro il merito quindi una regione aperta a tutti dove lavorano tutti dove le consulenze le possono avere tutti e gli appalti li possono vincere tutti non solo gli amici degli amici o quelli che hanno la tessera giusta in tasca e poi una regione dove non esista più neanche un caso di bambini portati via alle mamme e ai papà con l'inganno per fare quattrini perché è una roba altro che raffreddore ho visto che i fenomeni del PD in regione hanno detto che il caso di Bibiano sì è stato un raffreddore che schifo vallo a dire a quella mamma e a quel papà ieri li ho incontrati a Reggio una mamma e un papà che hanno avuto restituita la loro bimba che portare via una bimba ai genitori è un raffreddore è un errore tecnico che pena infrastrutture qua poi è il fenomeno mi hanno detto che Bonacini inaugura per sette volte le stesse cose che non sono ancora cominciate però la gente poi non ha più l'anello al naso e l'abbiamo visto in Umbria che da 50 anni votava a sinistra è arrivato tutto il governo in Umbria Conte Di Maio Zingaretti hanno promesso strade autostrade ferrovie ricostruzione per i terremotati hanno preso una lezione di democrazia che se la ricordano per i prossimi 50 anni dateci una mano a fare lo stesso in Emilia Romagna perché restituiamo a tutti i cittadini questa splendida terra e poi io il giorno dopo vorrei prendermi la soddisfazione di portare un caffè corretto in ufficio a Conte a Di Maio e a Zingaretti tutto lì con un sorriso enorme sorriso dei giusti e ringrazio anche Alan per l'iniziativa che hanno preso in comune perché laddove c'è odio laddove c'è violenza laddove c'è minaccia non ci deve essere la civiltà e la democrazia quindi è giusto essere vicini a Liliana Segre e a chiunque sia vittima delle violenze del prossimo senza l'ipocrisia di qualcuno che è a sinistra senza l'ipocrisia di qualcuno che è a sinistra si sta sgolando per Liliana Segre e poi quando sfila la brigata ebraica in piazza al 25 aprile fischia perché odia Israele e vorrebbe cancellare dalla faccia della terra Israele dovrebbero aver vergogna queste persone in bocca al lupo buona domenica buona vita buona fortuna contate su di me io conto su di voi nei prossimi 77 giorni conto sulla vostra grinta la vostra gioia e la vostra voglia di cambiare questa splendida terra in bocca al lupo e buona vita a tutti voi va bene quindi adesso comincia il nostro bellissimo momento conviviale e ce l'abbiamo tutto per noi godetevi questo pranzo grazie a tutti